Questo volantino va dal 9 marzo fino al 15 marzo, è incentrato sulla Pasqua. Allora, la prima cosa che troviamo è l'astici americano precotto a un prezzo di 8,99€, troviamo il patè di carciofi a 1,29€ e la creme brulee a 1,49€. Giriamo la pagina e troviamo una Pasqua carica di premi, il concorso dal 9 marzo al 12 aprile, quello che fa ogni tanto la Lidl, questa volta dà il premio, o le borracce, o i monopattini, oppure la bicicletta, ma ritroviamo al cibo che è meglio. Queste sono le offerte che cominciano lunedì 9 marzo, troviamo i tortelloni a 0,99€ con un ripieno ai funghi o ricotta e spinaci. Oppure troviamo i sacchettini o tortelloni a 0,99€, questi invece sono ripieni di ripieno al tartufo o tortelloni con fontina e spinaci. I panzerotti con ripieno ai gamberi e polpa di granchio a 1,49€, gli gnocchi ripieni con salmone. Troviamo come novità il salame al vino primitivo Puglia IGP a 2,49€, il culatello affettato a 2,99€, il prosciutto fumé a 1,99€, il rillettes de la mer a 1,49€. Oppure troviamo il dessert alla frutta, al mango, al lampone o al limone a 0,99€. Troviamo le cheesecake a 1,79€. Questo dessert al limone o al cioccolato a 2,49€. E' un dessert a base di panni spagna al limone o al cioccolato, come ho detto prima. Le patate d'uchessa a 1,11€. I funghi porcini a 2,49€. Lo sformatino di patate a 2,29€. Crocchette ripiene a 1,99€. Sono ripiene con formaggio, con tè d'oppe e parmigiano leggiano. I panzerotti ripieni con carne suina o con mozzancolle, 2,49€. I profiteroles bianco, 3,99€. Tortini al cioccolato con il ripieno morbido, 1,79€. Poi troviamo, prenota la tua Pasqua con viaggi. Lidl. Troviamo il Trentino Alto Adige, un viaggio 44€ per persona una notte. Oppure troviamo il Veneto, Venezia, un viaggio da 49€. Chi vuole andare in Veneto in questo periodo? Fatemelo sapere. Cambiamo pagina che è meglio. Basta viaggi. Sempre da lunedì 9 marzo troviamo prima di tutto la caponata, il mix di verdure a 99 centismi. Il pesto che possiamo scegliere, il pesto con il basilico, con la rucola, formaggio e noci di accaggiu. Pesto con funghi o pesto al tonno a 1,59€. Patè di oliva e taggiasche a 1,79€. La salsa con il tartufo a 2,49€. Il condimento a base di olio d'oliva da provare su carne o pesce alla griglia a 1,29€. Il patè di funghi, porcini e melanzane a 1,99€. Il tartufo estivo a 4,99€. Possiamo trovare il preparato con riso carnaroli in diverse preparazioni a 1,49€. Troviamo sempre i prodotti della Deluxe, però stavolta in gastronomia Lidl della selezione Gambero Rosso. Troviamo tagliolini al tartufo a 1,49€. Il provolone dolce con origano a 1,99€. La burrata affumicata a 1,29€. Il sugo elastice a 1,49€. Il misto funghi con porcini e speck a 1,99€. Il gelato alla nocciola del Piemonte in CP 99,00€. Il preparato per risotto carnaroli al nero di seppia 1,49€. Il croccante alle nocciole o alle arachini 1,99€. Il battuto di olive lecchino 1,49€. Giriamo pagina. Ancora offerte da lunedì. Cips di verdure con sale marino a 1,49€. La frutta ricoperta di cioccolato al latte oppure fondente 2,99€. I tartuffi al cioccolato ricoperti e ripieni 2,99€. Il liquore cremoso con panna al whisky 5,99€. Le arance candite e ricoperte di cioccolato fondente 1,99€. Amorettini al pistacchio 2,49€. La crema da spalmare al pistacchio oppure la mandorla o di nocciola a 1,99€. Troviamo la colomba classica incartata a mano a 4,99€. Troviamo i ravioli ricotta e pistacchio a 1,29€. Casarecci con farina di grano saraceno a 1,49€. Gli gnocchi ripieni al pesto o con radicchio e scamorza a 1,49€. Troviamo il camembert a 1,99€. Il dessert foresta nera a 99€. Il tenamisù al lampone a 99€. Orecchiette al grano arso a 99,99€. Il carallucci a 99,99€. Possiamo scegliere tra gusto di cipolla e prosciutto o al pomodoro e origano. Poi troviamo le patatine con buccia anomatizzate a 1,29€. La crema spalmabile a 1,49€. La bisfrolla a 2,99€. Oppure troviamo il patate di tonno e cipolle a 1,49€. Giriamo pagina. Nel reparto frutta e verdura della Lidl invece troviamo queste offerte che vanno dal 9 all'11 marzo. Troviamo i limoni a 1,49€. Oppure le melanzane a 1,29€. Cambiamo giorni delle offerte. 12 marzo fino al 15 marzo. Troviamo le arance tarocco a 1,39€. Oppure le zucchine a 1,25€. Andando nel reparto macelleria le offerte sono da lunedì 9 marzo a domenica 15 marzo. Troviamo il petto di pollo disossato a 2,59€. Le ali di pollo non separate a 1,79€. Il condor blo di tacchino a 1,79€. Le braciole di coppa di suino a 3,49€. L'hamburger di suino a 1,11€. Il roast beef di scottona a 14,99€. Lo sconto si applica alla cassa ed è al chilogrammo. I bocconcini di pollo con spinaci a 1,99€. Le polpettine di tacchino con speck e formaggio a 2,49€. Girando pagina trovando le offerte che vanno da metà settimana. Quindi da lunedì 9 marzo a mercoledì 11 marzo. Troviamo una promozione 3x2, cioè uno gratis. Dei brustel misti a 70 centesimi. Il prosciutto cotto per toast a 1,19€. La scamorza affumicata a 1,49€. Lo stracchino a 89 centesimi. Insalata di mare con verdure a 4,99€. La pasta sfoglia rettangolare a 59 centesimi. I panzerotti a 1,19€. I filetti di tonno a pinne gialle invece li troviamo a 2,99€. Da giovedì 12 marzo a domenica 15 marzo troviamo la salsiccia Napoli a 2,19€. La pancetta salmistrata a 75 centesimi. L'eda mafette a 99 centesimi. L'insalata mista a 75 centesimi. Lo yogurt fior di latte a 1,39€. I bocconcini di polpo a 2,79€. Troviamo i broccoli della fresciona a 1,29€. Troviamo i sughi pronti di pesce a 1,99€. Come offerte settimanali che valgono per tutta la settimana possiamo trovare l'acqua minerale naturale a 1,59€. I pomodori ciliegino in succo di pomodoro a 39 centesimi. I filetti di aringa della NYX a 1,11€. Il latte parzialmente scremato UHT a 75 centesimi. Il fior di cacao e panna. Questi biscotti li possiamo trovare a 1,25€. La bevanda ace a 75 centesimi. Il rigo fini alla vaniglia a 1,65€. Kinder Joy a 3,49€. Kinder Surprise a 3,49€. Troviamo il caffè crema a 99 centesimi. Il limone o tonica. Questa bevanda la troviamo a 49 centesimi. Della Swiper. Oppure della Coca Cola la troviamo la lattina a 59 centesimi. Oppure troviamo questa promozione. Vendita a cartone 6 pezzi di cui 2 gratis di Bianco di Custorza Dopp. A 7,16€ troviamo il nero d'avola delle terre di Sicilia Dopp 2,49€. La classica Brandy a 9,59€. Lo shampoo balsamo della Provost a 3,59€. A 1,79€ troviamo il bagno doccia della Bolo Talco. Guanti monouso a 3,99€ della V5. Andando nel reparto Super Offerte Settimanali dal 9 al 15 troviamo nel reparto Freschezza, Mortadella Bologna EGP a 1,11€ oppure le classiche Sottilette a 1,39€. Invece queste sono le offerte dal lunedì 9 a domenica 15 marzo. Troviamo come prima cosa il Pan Baoletto Integrale a 55 centesimi. I grissini torinesi a 49 centesimi. Le fette biscottate a 89 centesimi. Troviamo i tarallini ai semi di finocchio, al peperoncino o all'olio di oliva a 1,59€. Le sfoglie croccanti con olio extravergine di oliva e sale marino le troviamo a 99 centesimi. I crostini integrali ricchi di fibre a 79 centesimi. I coi stans salati al sesamo 1,59€. Ricordatevi il 19 marzo di fare gli auguri a tutti i papà. Per questa occasione Riddle ha pensato di fare delle offerte per i maschi. Quindi potete regalargli qualcosa da lunedì 9 marzo a domenica 15 marzo. in tempo per il 19 marzo. Vabbè, troviamo 4 ricariche della Gillette Mastra. 6,49€. Scusate la pronuncia ma io non mi sono mai fatta la barba. Quindi queste pronunce non le so. La Gillette rasoio più 3 ricariche. 4,99€. La schiuma per rasatura a pelli sensibili 1,69€. Della Gillette. Oppure dello stesso brand troviamo anche il gel per rasatura a 2,19€. Della CN Man troviamo la crema viso a 2,29€. Troviamo anche il doccia shampoo 2 in 1 sempre della CN Linea Man da 75 centesimi. Oppure troviamo l'essence acqua fraiche. Heau de Parfum 4,49€. Sempre da lunedì 9 marzo troviamo il rasoio a lama rotante a 24,99€. Il rifinitore per barba a 24,99€. Il regola capelli per naso orecchie a 9,99€. Il taglia capelli per naso orecchie a 24,99€. Il rasoio corpo a 19,99€. Troviamo anche la Red Bull a 99,99€. Ovviamente se vi interessa uno di questi rasoi mettete in pausa per leggere bene le specifiche. Andiamo avanti noi. Nella prossima pagina. Oggetti da bricolage. Troviamo una seganastro a 89,99€. Oppure una smeragliatrice angolare a 24,99€. Troviamo il set accessori per la smeragliatrice angolare a 4,99€. Il supporto per la smeragliatrice angolare a 14,99€. Oppure la valigetta con utensili con 101 pezzi a 69€. Andando avanti troviamo una fresatrice per scanalature a 69€. Oppure troviamo un avvitatore ricaricabile 4 in 1 da 29,99€. Oppure una pialla elettrica da 29,99€. La lavigatrice mouse 14,99€. Saldatrice a gas 19,99€. La lampada LED da lavoro 360 gradi di illuminazione 49€. Troviamo un misuratore di distanza laser a 22,99€. Oppure un misuratore di temperatura ad infrarossi a 16,99€. Troviamo un multimetro digitale a 14,99€. Oppure un rilevatore multifunzionale o misuratore di umidità a 12,99€. Troviamo un calibro o goniometro digitale a 9,99€. Oppure un righello multiangolo scalimetro o squadra a 7,99€. Oppure uno scaffale in metallo con 5 ripiani soli 29,99€. Cambiando pagina invece per una profonda igiene orale troviamo il dentifricio Gentle Whitening a 2,49€. Oppure il dentifricio Compass. Lo spazzolino da denti elettrico a 39,99€. Oppure se lo volete un po' più personalizzato potete scegliere a 17,99€ sia lo spazzolino da denti elettrico Frozen oppure Star Wars. Potete scegliere un accappatoio sia da donna che da uomo a 14,99€. A 3,99€ invece c'è l'asciugamano o turbante per capelli. Abbiamo delle ciabatte sia da uomo che da donna a 4,99€. Un'asse del WC con chiusura automatica 12,99€ oppure una doccetta multifunzione 9,99€. Sempre da lunedì 9 marzo abbiamo in lato si è nel segreto della bellezza. Troviamo il set mascara e eyeliner 3,49€. Il set rossetti liquidi 3,49€. Oppure lo smalto 1,79€. O la crema a mani a 99,99€. Le veline cosmetiche profumate 1,19€. Nella pagina successiva per l'arte in cucina troviamo la macchina per il pane a 49,99€. Troviamo anche il preparato per il pane a 1,15€. Il tagliere da cucina o copri piano cottura in tre dimensioni lo troviamo a 9,99€ alla confezione. Poi troviamo il coltello con lama in ceramica a 7,99€ quello da 16 cm. Se vogliamo quello da 10 cm abbiamo quello da 4,99€. C'è il servizio di posate che sono in tutto 24 pezzi e costa 17,99€. Da giovedì 12 marzo c'è la doppia piastra ad induzione a 69,00€. Troviamo anche una padella a 24 cm di diametro. Alla confezione costa 11,99€ la padella invece a 28 cm. Pagina successiva per maestri pasticceri. Troviamo un frullatore ad immersione 19,99€. Lo sbattitore invece 14,99€. Piastra per waffer 19,99€. Bilancia digitale da cucina 9,99€. Troviamo la tortiera rettangolare con cerniera 7,99€. La teglia allungabile da forno 6,99€. Lo stampo da forno con cerniera o per ciambella 3,99€. La teglia o stampo da forno 2,99€. Pagina successiva troviamo l'alzata a 2 o 3 piani a 9,99€. Oppure possiamo trovare questi 7 stampini in silicone tra 6 o 12 pezzi, 3,99€. Se vogliamo degli stampini un po' più particolari troviamo questi, forma anche pasquale, a 3,99€. Oppure ci sono i centrini o pirottini di carta per dolci, 99€. Poi troviamo il portatorta rotondo o rettangolare con coperchio a 4,99€. Qui troviamo tutte le misure e sono offerte che appunto cominciano da lunedì 12 marzo. Andiamo avanti troviamo dei contenitori salva freschezza a 4,99€. Troviamo degli accessori per pasticceria a 4,99€. Degli altri accessori da cucina in silicone a 3,99€. Una tovaglia 130x160cm oppure di diametro 160cm a 4,99€. Successivamente da giovedì troviamo dolci che passione, zucchero vaniliato a 69,99€. La glassa di zucchero anch'essa a 69,99€. Il cacao in polvere 1,49€. La vaniglia in bacca 2,49€. Le mezze prugne allo sciroppo 1,29€. Le decorazioni di zucchero 1,49€. Queste altre decorazioni di zucchero 1,99€. Poi troviamo anche le basi di pan di spagna a 99,99€. E sono in misura mini. Troviamo lo staccante alimentare spray universale a 2,19€. Le decorazioni di zucchero 2,49€. Le ciliegie o mirtilli rossi 1,89€. Poi troviamo anche alcune cose di pane angeli. La vanillina a 55,00€. Il lievito vaniliato a 89,00€. Il lievito di birra a 95,00€. Troviamo questa confettura fior di frutta mirtilli neri di bosco a 2,89€. La pasta di zucchero invece per decorare le torte 1,29€. Arriva la primavera e si gira pagina. 1,14€ e 99,00€. La base per ombrellone 12,99€. L'ombrellone 210 x 140 cm 22,99€. Il telo protettivo per tavolo lettino da giardino 6,99€. Troviamo il cuscino per lettino sdraio di misura 190 x 60 cm 19,99€. Troviamo anche quest'altro cuscino un po' più piccolo per sedia sdraio 50 x 120 cm. Il prezzo è di 11,99€. Lo volete ancora più piccolo? Bene! Lo potete trovare anche di dimensioni 50 x 100 cm. Al prezzo di 9,99€. Se invece volete un cuscino per sedia 40 x 40, 6,99€ sono due pezzi. La lampada ricaricabile da tavolo invece è 17,99€. Il box da giardino 19,99€. Per il pollice verde, il giardino e i fiori, troviamo la primula a tre colori 2,99€. Le urtensie solomia 3,99€. Le piantine primaverili 2,49€. Troviamo semi, immagino, 99 centesimi alla confezione. Troviamo il concime granulare a lenta concessione per tappeti erbosi 3,99€. L'ortensia 5,99€. Delle piante rampicanti 1,99€. La magnolia 7,99€. Il mazzo di tulipani 2,99€. Delle piante tabacca 3,99€. Finalmente siamo alla fine di questo volantino. Per il super weekend, offerte valide solo da sabato a domenica, troviamo il prosciutto crudo al trancio 5,79€. Il formaggio fontal 1,29€. La mozzarella 2,79€. Il fior di cacao nocciole e questi biscotti a 1,11€. Oppure vendita al cartone 18 pezzi di cui sei gratis 4,20€. Della birra Lager. Gentile canneggina della Ace 2,59€. Troviamo un televisore Toshiba a 2,99€. Oppure una lampada led dimmerabile al prezzo di 3,99€. Ci vediamo al prossimo volantino o alle mie prossime ricette di cucina. Ciao!